Signorina Adams, ha detto di aver avuto un percorso educativo particolare? Otto scuole in cinque anni. Ehi, stramba! L'allenamento è a porte chiuse! L'unica persona che può torturare il mio fratello sono io. Oh mio Dio! Era per il bene dell'umanità. Quelli dell'Adalto non dovrebbero riprodursi. Essere espulse è stato un onore. Tu adorerai la Nevermoor. È un luogo magico. Lì ho conosciuto tua madre e me ne sono innamorato. Finalmente avrai dei compagni che ti capiscono. Magari ti farei perfino degli amici. Ti piacerebbe una botta di socialità? Mi piacciono le botte. Non immaginavo che mi sarei ritrovata in un incubo. Con misteri. Caos. E omicidi. Credo che mi troverò bene qui. Ho! Ho! Grazie.